Sono stato chiamato ad occuparmi del settore mutue all'interno di Federazione Sanità, il settore che di fatto si preoccupa dell'accessibilità alla salute e ai servizi di salute attraverso l'intermediazione della spesa. E' questa ormai una questione importante all'interno del Paese, tenendo conto che la spesa sanitaria privata ormai ha raggiunto livelli realmente molto elevati sia in termini assoluti, siamo vicini ai 40 miliardi, sia in termini percentuali il 25% complessivo, 25-30% della spesa complessiva. Attraverso le coperture sanitarie è possibile garantire che la spesa in capo alle famiglie effettivamente si riduca attraverso una mutualizzazione del bisogno ed è a questa estensione di opportunità innanzitutto per quanto ci riguarda i cooperatori ma attraverso le cooperative all'interno delle comunità e quindi una cittadinanza il più stesa possibile all'interno del nostro Paese che sarà il nostro impegno come settore mutue all'interno di Federazione Sanità e con l'integrazione anche dei sistemi di offerta, in questo senso con tutte le cooperative sanitarie e sottosanitarie che producono servizi poi utilizzabili dalle persone che hanno le coperture sanitarie. Un lavoro importante che si declinerà nei territori e in questo senso contiamo davvero di poter valorizzare anche la peculiarità del sistema cooperative che da sempre ha fatto della sua articolazione nelle regioni e nelle province su attraverso il suo tratto distintivo.